Dopo il senso che non vorrei da quasi 150.000 visualizzazioni su YouTube, arriva I nostri battiti, il nuovo singolo di Fabio Martorana che racconta del legame con il fratello Antonio a cui lo dedica. Così tra le trame della vita, nonostante il dolore e la rabbia, c'è sempre l'amore a prevalere. I nostri battiti l'ho scritta pensando profondamente al mio fratello, al rapporto che poteva averci e al rapporto invece che ho con lui, nonostante lui fisicamente non ci sia. È una canzone che anche se scritta con parole semplici, poi tra l'altro, dice sostanzialmente quello che vorrei potesse accadere, cioè quello di riviverlo, di avere la possibilità di poterlo rivivere. Penso che tutti noi esseri umani siamo consapevoli del fatto che la vita è anche questo, che le persone che amiamo possono andare via, ma dobbiamo nutrire una speranza dentro, che è quella di poterli rivivere, riabbracciare. L'amore non svanisce con la morte, assolutamente. Se ami veramente l'amore non andrà mai via. Dal teatro al cinema fino alla musica, un momento davvero positivo di grande crescita per l'artista siciliano che da tempo vive vicino Roma e che sta scalando le classifiche musicali indipendenti.